Buongiorno a tutti, benvenuti al nostro hobby preferito, quello che potremmo definire il debunking degli eccellenti articoli di punto informatico sul tema informatica. Si sa, è un lavoro secondario per loro. Oggi ci spiegano tra i tanti articoli quale è l'hosting ideale per attivare un sito WordPress velocemente e ci viene detto che in alcuni casi attivare un sito WordPress velocemente è una necessità concreta. D'altro canto sono ben lontani i tempi in cui la configurazione e l'installazione del noto CMS è eseguita manualmente. Ora, io WordPress a mano l'ho configurato varie volte ed è una cosa che richiede tre minuti. Basta avere la password, il nome del database, il nome del sito e ci metti un attimo. Non è neanche, tra virgolette, così comodo potremmo dire, in termini di tempo soprattutto perché spesso quando si tratta di tempo, in un contesto specie multiplo, potremmo dire, ad esempio, multi-hosting dove magari hai una copia di WordPress salvata, basta che la copi e avvi l'installazione e ci metti due minuti mentre il download, subitamente, in automatico, richiede più tempo. Poi, è un po' più comodo, questo non lo nega nessuno, però, nulla da dire. E poi, ripeto, SiteGround, che è quello che viene, questo qua è anche solitamente un buon hosting. Nulla di che, semplicemente mi fa ridere questo definire la procedura di situazione di WordPress come se fosse chissà che cosa. Non lo è. È facile. Data breach. Nel 2022, un report sveglia le caratteristiche su questa forma d'attacco. Gli attacchi tipo data breach nel contesto informatico sono costanti diversi anni. E già qui, onestamente, ho dubbi sul fatto che si possano definire attacchi perché, obiettivamente, io posso fare un attacco che porta a una perdita di dati ma potrebbe anche non essere un attacco. Potrei trovarli già disponibili. Potrei tranquillamente accedere a un hosting, magari lasciato aperto, che trovo su Shodan e trovarci dei dati. Poi, la scelta responsabile, ovviamente, è avvisare, ne ho parlato nel video su Shodan che anche chi non lo fa, chi li pubblica. Poi, chiaramente, se si tratta magari di 100.000 nomi, potrebbe avere anche un discreto valore commerciale. Ovviamente, si dice che una soluzione contro queste cose qua è, ovviamente, Surfshark, la famosa VPN, perché la VPN protegge da tutto, perché se tu usi una VPN e ti registra un sito mettendoci nome e cognome, carta di credito e fotografia da carta d'identità, questo viene violato per il solo fatto che la VPN è protetto. Lo sanno anche gli alberi. Prima di leggere questo articolo, tra l'altro, voglio fare una breve nota. Come noterete, il nome dell'autore adesso corrisponde a quello dell'URL. Prima, se vi ricordate, già ne avevo parlato nei primi video, era fittizio, c'era un nome che corrispondeva a un altro URL, quindi diciamo una boccata di trasparenza. Leggiamo, ovviamente, della questione delle webcam che vengono violate, utilizzate. Si parla del fatto che c'è chi copre la webcam e viene ritenendo una cosa un po' paranoica, ma noi in realtà sappiamo bene che fanno bene, diciamo, il rischio c'è. E viene proposto di utilizzare un buon antivirus, viene proposto Surfshark, che viene prodotto dagli sviluppatori di una famosa VPN, quindi grande esperienza nel settore di ciò che è la cyber security. Io ad esempio conosco una persona che è un gran costruttore di mobile, anche lui ha una grande esperienza nella cyber security. Comunque, è un consiglio un po' ingannevole, perché è vero che avere un buon antivirus aiuta perché è meno probabile che si venga violati, ma nel momento in cui si viene violati può violare comunque la webcam, quindi diciamo che se uno ha già l'abitudine di coprire la webcam, è bene che faccia una sua valutazione dei costi benefici nel dire prendo un antivirus migliore, per quanto io non conosca Surfshark antivirus, e coprire la webcam. Se Android TV sono potenzialmente a rischio sicurezza, certamente, Android è un sistema operativo che ha i suoi problemi di sicurezza, soprattutto è anche abbastanza aperto, quindi una persona può abbastanza tranquillamente creare un file infetto. e bisogna, però, attenzione, porre attenzione a privacy, non un'unità online, in sostanza usate una VPN e tutto andrà bene. Ormai è quasi noioso leggere questi articoli, infatti non so quanti seguiti farò a questa piccola serie perché dopo un po' dicono sempre le stesse cose, forse mi limiterò ai casi più egregi e valuteremo quelli. Qui si parla dell'attacco compiuto con SXEI Agios, che è un ransomware tra l'altro, l'ho fatto anche un video perché è stato protagonista di un attacco abbastanza discusso in Italia, ve lo lascio ovviamente in descrizione. E, sì, fondamentalmente non dice neanche delle cose molto sbagliate, ecco, diciamo che vi propone che tutto ve lo vende come se fosse un problema vostro, quando in realtà è un problema di chi ha server che utilizzano questa piattaforma di virtualizzazione e poi, ovviamente, viene, non viene descritta la cosa, vi viene proprio semplicemente installato questo antivirus e tutto andrà bene, quando non c'entra praticamente niente, è solo un articolo pubblicitario, un clickbait, apri di più su questa incredibile vulnerabilità, eh, non ti dico niente su questa vulnerabilità, compra Norton. Hosting e PHP 8.2, perché questo linguaggio di programmazione è così interessante? Ci viene detto che, di fatto, per chiunque possieda un sito web, il consiglio è adattarsi il prima possibile a questo nuovo standard. La maggior parte degli hosting, infatti, permette di effettuare l'applicazione senza particolari difficoltà. il mio sito web, largamente, perché alcune parti lo usa, non usa PHP, tattico. Devo fare anche io questo upgrade, ma soprattutto è bene tenere a mente, per quanto non convenga utilizzare versioni di PHP obsolete, in alcuni casi io potrei avere un software che è stato scritto per una versione di PHP più vecchia, comunque supportata, e può avere dei problemi con PHP nuovi. non è diffusissimo, ma capita. E quindi io starei attento a dire, ah, aggiorna subito. È vero che solitamente gli aggiornamenti in questi casi sono reversibili, cioè, torna indietro, è risolto, però, perché dire, fatelo il prima possibile? Questo è molto, molto divertente. Malware Icebreaker, la nuova milaccia che colpisce stiti scommesse, e non solo. Traverso un attacco di, che di tipo backdoor, notare, italiano, perfetto. copywriter, loro sono quelli che scrivono di professione, alcuni hacker stanno prendendo massicciamente di mirare alcuni siti scommesse di piattaforme simili, il malware, bla bla bla, e esso agisce ingannando il servizio clienti delle piattaforme, e spingendo l'operatore ad aprire link dannosi. Poi, vediamo. Realizzata con tecniche di ingegneria sociale molto avanzata, che sembra figo, perché sembra che l'ingegneria sociale sia chissà che cosa, vuol dire letteralmente, saper prendere per il culo gli altri, convincendoli a fare quello che vuoi tu. C'è scritto attivissimo, un piccolo manualetto anni fa, sarà stato il 2000, ve lo lascio in descrizione se lo trovo, che era un po' la base di questa cosa, per chi fosse veramente interessato, l'arte dell'inganno, lettura obbligatoria, ma venderlo come se fosse una cosa così, evoluzionare a far ridere, per di più, solo i migliori antivirus sul mercato riescono ad arginarli efficacemente, i miei dubbi, c'è una minaccia così pubblica, cioè per quale ragione, non so, Windows Defender deve essere incapace di prenderlo, mentre McAfee Total, deve essere in grado, per di più, poi, sebbene l'Icebreaker sia un attacco focalizzato su un sito scommesso, nulla può impedire agli hacker di cominciare una campagna massiccia, per chiunque questa minaccia è concreta, abbiamo definizioni diverse di concreto, un po' come dire che siccome, domani, qualsiasi pazzo può procurarsi una bomba e farla esplodere, è un pericolo concreto, no, per di più, la cosa che volevo anche far notare, adesso ho aperto la pagina dell'autore, è che la pubblicazione è incessante, a volte anche si tratta di uno o due articoli al giorno, eppure scrivere articoli di qualità richiede tempo, lo vedo con i miei, che non sono neanche questi grandi articoli, alle volte, articoli magari dieci minuti di lettura, ci vogliono giorni di documentazione, lettura, informazioni per scriverli, perché? che devi cercare fonti, devi studiare magari degli argomenti che hai già studiato, ma devi semplicemente rivederli, perché non te li ricordi così bene, e qua invece pubblicano a nastro, evidentemente funziona per fare soldi, ma non per fare informazione, questo articolo potremmo chiamarlo invece la sagra delle certezze, Cyber Up Relips, il 2023 sarà l'anno della grande catastrofe digitale, ha le previsioni inquietanti, infatti è stata paventata nel corso del World Economic Forum di Davos, in questo contesto, durante la presentazione del report di Global Service Security Outlook, è stato lo stesso amministratore delegato della stessa lanciare l'allarme, lo stesso amministratore delegato della stessa, il lavoro di queste persone è scrivere, non facciamoci domande, secondo me Jeremy Juergens, il risultato di un sondaggio ha dimostrato che il 93% di persone, ritiene come sia possibile che nel corso dei prossimi due anni sembra un evento catastrofico a livello di sicurezza informatica, perdonatemi se rido, ma rido perché è un pessimo copywriting, io conosco dei copywriters, sono brave persone, persone che riescono a prendere magari un testo, che ho scritto io, che non è neanche un granché, e renderlo un testo veramente bello da leggere, e qua vedo un articolo pubblicato, tra l'altro il giorno che sto registrando questo articolo, quindi tornate prima a vedere, vedete quanti ne sono stati pubblicati nel mentre, e dire, bellissimo articolo, cioè si va, temono con 5 simabilità, parole completamente a caso, non vado avanti a leggerlo perché riderei troppo, anzi no, anzi no, perché io questi video, proprio per essere più giugno di uno possibile, li leggo praticamente in diretta, leggo l'articolo, registro e se è una cazzata non cancello quello che leggo, allora ci viene detto che la tecnologia, se è un'intelligenza artificiale con possibilità, rischi ancora di finire, non aiuta niente al senso, ma cosa possono fare i singoli consumatori in questo contesto, Norton 360, io mi immagino se ci fosse una severa apocalypse, non so, un crollo del border gateway protocol, vi lascio un video in descrizione che ho fatto qualche tempo fa, scusate Norton 360 va tutto bene, ve lo fa lui da router di confine, tranquilli, leggiamo invece questo manuale di sicurezza informatica, adesso vado, prendo tutti i libri che ho, li brucio perché c'è questo, non mi serve più nient'altro, il web è un luogo tanto variegato, interessante quanto pericoloso, bla bla bla, al duale sito della sito di sicurezza, una buona dosi prudenza indispensabile per evitare la compromissione dei propri dispositivi elettronici, che è vero, le raccomandazioni base per navigare online senza stress, e dove o me già siete i fasi cosetti stressi, oltre agli strumenti adeguati, prevede evitare a prescindere siti web sospetti, ok, provvisi i certificati SSL, che non è vero, cioè, il certificato SSL non garantisce la, diciamo, la protezione dei dati in transito, se voi inserite una password, su un sito senza SSL, siete dei pazzi, ma se lo visitate basta, no, il download di file, anche da messaggi di posta elettronica che sembrano autentici, rappresenta un altro pericolo da evitare, non scaricate fredd internet, qualsiasi cosa, fateveli spedire su dischetto, dischetto, ci tengo a sottotare floppy, perché i DVD sono un strumento di satana, e che dire, si poteva anche fare un articolo decente, citare quelli che sono veramente i rischi, quali tipi di file scaricare, e quali non scaricare, dove scaricarli, perché un conto è un sito ufficiale di un produttore di software, un conto è scaricarli su waret.com, invece no, non scaricate file, non usate siti sprovvisti certificati SSL, che tra l'altro, non per dire, vari siti pubblici non hanno certificati SSL, però, non visitateli, ci sta, ovviamente un po' di anarcho capitalismo ogni tanto. Leggo brevemente questo pezzo, non perché sia sbagliato, perché anche relativamente giusto a S, 256 bit, che sì, ci sta, ma per il fatto che, qualche tempo fa hanno pubblicato un articolo, non mi ricordo se l'ho fatto leggerlo, solo ho menzionato, qui dicevano che AES potrebbe avere delle debolezze, bisogna usare un altro protocollo, XCHA20 mi pare, e, no, per dire, proprio cambiano completamente idee ogni trappertura, cioè, questa roba qua potrebbe essere scritta veramente, CHAGTP, se si tratta di usare una VPN che usa AES, AES è il miglior sistema del mondo, se si tratta di usare una VPN che non usa AES, AES fa schifo, e proprio su CHAGTP possiamo citare questo bellissimo articolo, un pezzo magistrale, AES potrebbe creare un super malware, ci spiega cos'è, e che è in grado di realizzare codice di programmazione, cosa da proprio una forma aulica, che quindi si può fare, per carità, teoricamente, io dubito che potete andare da CHAGTP a dirgli, fammi un malware, però potete chiedergli, mi crea un programma che si apre in questo modo, che criptografa dei file, che è una cosa legittima, e poi vi fate un vostro bel ransomware, cose così, potreste anche farlo, la questione è che, mentre risulti improvvisamente, e mantenete attenzione, al solito, beh, ti dico, per malware GPT, no, non succede, però usa il mio antivirus, voglio però concludere questo video, su una nota positiva, con questo articolo, sempre su un punto informatico, scritto da una persona, che ha esperienza nel mondo dell'informatica, che è scritto bene, vi dice che malware, è distribuito tramite siti fasoli, pubblicitati su Google, che è un problema, e la gran parte dell'articolo, è dedicata alla problematica, come vedete, vi spiega qual è il problema, come è stato scritto il software, in una maniera semplificata, perché questo deve essere, su un sito divulgativo, vi dice quello che fa, e vi invita, tra l'altro, a usare la soluzione più semplice e gratuita, che è utilizzare un adblocker, e poi vi dice, che potete usare un antivirus, e ve lo linka, e avas, primo sicuramente, questo è un ottimo articolo, complimenti, se tutti gli articoli fossero così, non ci sarebbe alcun problema, perché questa è una pubblicità bella, una pubblicità utile, che serve a portare avanti, il proprio lavoro, ed è giusto che ci sia, una persona può anche dire, sì, questo articolo mi ha convinto, a prendere un antivirus, perché è un articolo fatto bene, ma mi confido di questa persona, e lo compro, perché no, perché uno deve fare, tutti gli articoli, come quegli altri che abbiamo visto, quando si può avere un articolo, così bello, complimenti, a Luca con Antoni, per questo bel articolo, devo dire, e al solito, se questo video vi è piaciuto, vi invito a mettere un mi piace, iscrivervi al canale, a guardare in descrizione, per i link citati, e eventualmente per sostenere il canale.